Quando parliamo di economia del mare non possiamo non parlare del PUA. Che cos'è il PUA? Il PUA è un documento organico, diciamo così, nel quale sono contenute le linee di indirizzo per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. Quindi è un documento molto importante, con un occhio attento all'ambiente, ma anche al diritto di tutti i cittadini di usufruire delle spiagge che appartengono a tutta la comunità. Ora sappiamo Paolo che tu sei stato in qualche modo l'anello di congiunzione tra il Campidoglio e il Municipio sul piano di utilizzazione degli aree nivi. Quando è stato redatto questo piano, qual è stata la visione del Campidoglio, perché il piano è stato redatto durante la giunta Raggi, la passata consigliatura, qual è stata la vostra visione quando avete governato la città? C'è anche quello. Allora intanto grazie a tutti e benvenuti. Quando siamo arrivati in Campidoglio una delle prime cose che ci siamo trovati è stato un lavoro da mettere in campo sulla gestione delle spiagge. Ancora il Municipio era commissariato per cui non c'era ancora Giuliana che amministrava il Municipio, però Giuliana era nell'ufficio del Sindaco come delegata e per cui si occupava delle questioni del litorale. Essendo un Municipio commissariato avevamo necessità in qualche modo di avere un referente sul territorio che comunque cominciasse a preparare il lavoro. Non perché pensavamo di vincere, ma perché comunque in qualsiasi caso ci saremmo stati. Poi però alla fine Giuliana si è trovata ad amministrare il Municipio nei quattro anni successivi. La prima cosa che abbiamo detto è stata quella di cercare di mettere insieme una rigenerazione del lungomare andando a vedere aspetti ambientali che sicuramente andavano migliorati. Penso all'abbattimento del cemento, penso al recupero delle spiagge libere. Più spiagge libere, più visibilità del mare. Una delle cose che ci siamo detti è stata questa, ma soprattutto cercare di capire come unire le spiagge e per cui la linea demaniale con tutto quello che era il tessuto cittadino, ovvero creare una permeabilità e fare in modo che la città si affacciasse su un lungomare che si vedesse e stando dalla spiaggia era possibile anche accedere facilmente a quelle che erano le attività commerciali o comunque alle aree del litorale. E di fatto il PUO è stato disegnato con queste modalità, ovvero prevede al suo interno l'abbattimento sostanziale del cemento, tutti i muri che sono comunque fronte spiaggia, c'è un recupero di spiagge libere importante. Lo abbiamo fatto con un meccanismo importante che per anni non era stato sottovalutato, usiamo questo termine, non era stato visto adesso, che è quello di far tornare la spiaggia di Castelporziano come spiaggia al di fuori del conteggio che la legge regionale prevede del 50% tra spiagge libere e spiagge in gestione, stabilimenti balneari. Per anni quella spiaggia non era conteggiata come spiaggia libera, per cui essendo una spiaggia abbastanza corposa non si riusciva a recuperare spiaggia libera al centro di Ossia, dove c'è il lungomuro. L'abbiamo potuto fare perché la norma ce lo consentiva, perché essendo una spiaggia del Presidente della Repubblica, ovvero non era una spiaggia di Roma Capitale né del Demanio, siamo stati messi nella possibilità di espungerla dal piano, metterla da una parte, e per cui va da sé che se devi ricoprare un 50% come è previsto dalla legge devi abbattere qualche muro e recuperare qualche spiaggia libera. Con questo meccanismo molto semplice che si poteva fare già da anni abbiamo fatto sì di presentare un PUA che di fatto è un PUA innovativo e che permette comunque di recuperare spiagge libere e visibilità. Detto questo... Scusa se ti interrompo, tu stai parlando di spiagge libere e di questo meccanismo, spiegiamo un attimo la differenziazione tra le varie tipologie di spiagge. Allora abbiamo gli stabilimenti balneari, poi abbiamo delle spiagge libere, libere, senza nulla sopra, e poi abbiamo delle spiagge libere con servizi. Sono tre tipologie di spiagge che all'interno del PUA vengono interpretate, naturalmente le spiagge libere, libere, insomma dove non c'è nulla, che sono pochissime in questo momento, e le spiagge libere attrezzate raggiungono un numero superiore a quello che è in questo momento, quello degli stabilimenti balneari. Però io ci tengo a dire una cosa, non significa non produrre economia, anche una spiaggia libera con servizi, se c'è un bel chiosco, magari che a fine stagione si smonta, delle strutture comunque che sono compatibili con l'ambiente possono produrre economia, anzi probabilmente molto di più di quello che produce uno stabilimento balneare. Io adesso i conti non ce l'ho, ma non credo che a Castelporziano guadagnino di meno con le attività commerciali di quanto guadagna uno stabilimento balneare. È solo un cambio di visione, un cambio di modello e una nuova economia del mare che secondo me può essere messa in campo. Il PUA non è scritto sulla pietra, abbiamo fatto un lavoro che sicuramente si può migliorare, oggi l'amministrazione lo sta portando avanti, il lavoro che abbiamo fatto l'ha sposato, lo sta portando avanti, ha fatto alcune piccole modifiche che tra l'altro eravamo anche d'accordo, Giuliano questo lo sa già in precedenza, si può fare ancora di più, dobbiamo interloquire sicuramente con tutti, anche con gli attori che stanno comunque sul mare, che comunque lavorano sul mare, se ci sono delle cose che possono essere migliorate, che vanno comunque a servizio dell'imprenditore, ma anche a servizio dei cittadini, noi siamo disponibili, però ormai la via è avviata e credo che in questa direzione dobbiamo andare. Grazie, a proposito proprio dell'ultima cosa che hai detto, visto che abbiamo comunque un rappresentante del territorio, una persona che sul campo gestisce anche un camping, sappiamo che non c'è un consenso unanime su questo PUA, che però adesso sta andando avanti, è stato redatto nella scorsa consigliatura, in questa l'aggiunta a quartieri, anche se sono state fatte delle modifiche, piccole modifiche, lo ha approvato. Quali possono essere secondo te le migliorie da apportare per renderlo più rispondente e anche rispetto alle esigenze, diciamo così, degli operatori economici? Guarda, intanto innanzitutto consentimi di ringraziarvi per l'invito. Io rappresento appunto il campeggio internazionale di Castelfusano, che è l'unico campeggio della provincia di Roma che si affaccia sul mare. Quello più antico su Roma, è stato istituito nel 1960, è quello che è rimasto un campeggio che accoglie la gran parte della sua utenza, utenza estera e turismo vero e proprio, cioè non ci sono gli abbonati, non ci sono gli istanziali, gran parte della superficie, è rimasta, abbiamo deciso di lasciarla per il transito anche di tende, tendine, saccopelisti, il campeggio come era una volta. Sono molto contenta di essere qui, anche se non sono, lo sanno gli amici, una elettrice, diversamente dai colleghi della cooperativa, una elettrice del Movimento 5 Stelle, ma mi fa molto piacere perché ho sempre riconosciuto, anche in altre sedi, che l'amministrazione pentastellata in questo municipio è stata quella che in questi ultimi anni, in questi dieci anni, è quella che dal punto di vista turistico ha decisamente fatto di più. E se mi consentite, due minuti poi intervengo e dico qualcosa anche sulle spiagge, se mi consentite anche di ricordarlo, lo ricordo a me stessa e lo ricordo a tutti, a cominciare la rifacimento di Ostentica, dell'editor San Michele, il grande coraggio che avete avuto per la pista ciclabile, che io ho difeso in tutte le sedi per come è stata fatta, problemi in problemi, lo sappiamo tutti, mi è stato un passo decisivo e anche molto coraggioso. E anche e soprattutto le spiagge libere. Io adesso mi dico una cosa, ho qui la foto del cartello, che l'hanno senza nessuna polemica con l'attuale maggioranza, perché so che c'è una problematica degli uffici e di Roma Capitale. Il 10 giugno, non il primo aprile, il 10 giugno alla reception del campeggio abbiamo dovuto mettere un cartello in tre lingue, scusandoci, dicendoci mortificati per il fatto che l'amministrazione locale non era stata ancora in grado di pulire e sistemare la spiaggia libera, che è l'unica spiaggia libera che si affaccia sul lungomare Amerigo Vespucci, non c'erano i bannini, la spiaggia è stata poi alla fine aperta a fine giugno. Ora io ribadisco qua che i turisti, veri e propri, io credo di avere un'esperienza sufficiente in 40 anni di poter dire che i turisti cercano le spiagge libere. Le spiagge libere. Ora, è vero che io ho molto apprezzato il fatto che fossero tolti i chioschi e che le spiagge, quelle che erano state decise da voi che fossero libere, fossero libere e basta. Che se io vado con uno sciocamano e il mio ombrellino non mi devo ritrovare in mezzo al preposizionamento che non nascondiamocelo, il fatto che sia vietato non significa preposizionamento sulle spiagge libere, c'è stato sempre fatto. Con il risultato che se io vado con l'ombrellino alle 7 e mezza alle 9 del mattino mi dicono, no, guarda, spostati, sappiamo. È vero che c'è una domanda, la riporto qui anche, di noleggio di lettini e ombrelloni sulla spiaggia libere. È vero, secondo me, si può anche ovviare questa cosa con delle autorizzazioni al camion esterni sulle spiagge libere più grandi. Castelporziano probabilmente ha una superficie tale che può consentire che una parte sia libera libera e una parte con la possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni, perché la domanda c'è, anche se personalmente sono convinta che le spiagge libere devono essere libere e basta. Cioè, quelle che si individuano le spiagge libere sono libere e basta. A tutt'oggi noi non sappiamo, io ai turisti che stanno scrivendo, anche ai gruppi che stanno prenotando, non so dire se ci sarà la possibilità di noleggiare un ombrelloni, non so dire cosa succede a Castelporziano, non so dire cosa succede a Capocotta, e vi assicuro che di turisti esteri che si rivolgono alla parte di Castelporziano e Capocotta, ce ne sono tanti, c'è tutta la comunità gay, la comunità lesbo, non sappiamo dire che cosa succede a Capocotta. Forse magari Ferrara ci può aiutare. Sul piano del lungomuro e del PUA, io poi non ho studiato molto, francamente, i dettagli. So che la parte più brutta è quella del lungomare Amerigo Espucci, dove lì non tanto imprenditori privati, ma Kral hanno fatto delle oscenità. Personalmente non ho mai avuto un'estrema polemica, sì certo ce n'è, sui lidi privati, tranne il fatto che le due arterie che arrivano a Colombo e via del mare dovrebbero essere i due pontili, la rotonda e il pontile di Ossia, dovrebbero essere completamente liberi, avere un'area di affaccio sul mare completamente libera, non è possibile che io mi affaccia dalla rotonda e mi vedo uno scempio sotto la rotonda che non è spiaggia, ma è tutta l'attrezzatura dello Schilling, francamente, che era una spiaggia libera, fortunatamente è stato ricordato qualche giorno fa su un articolo che mi pare fosse su Repubblica. e che non si capisce per quale motivo aggiungo una nota personale perché ci debbano essere lidi dell'esercito, della marina, della finanza, del comune e perché questi non possano essere trasformati in spiagge libera. Ti volevo dire una cosa, anche per aggiornare le persone che ci stanno in questo momento ascoltando, all'interno del PUA la spiaggia davanti alla Cristoforo Colombo, ovvero la rotonda, e il pontile diventano spiagge libere, per cui sono già all'interno di questo progetto, anche perché abbiamo immaginato che quando uno arriva a Ostia deve avere davanti la visione del mare, deve avere in qualche modo la possibilità di vedere delle spiagge libere. C'è un'incertezza in questo momento sul discorso della gestione delle spiagge che è dovuta a dei ritardi dell'attuale amministrazione e anche degli uffici in qualche modo e di alcune situazioni che hanno fatto sì che i poteri si spostassero da Ostia a Roma e quando tu muovi una macchina amministrativa spostando dei poteri, poteri intendo chi si occupa di spiagge, è chiaro che gli uffici si devono adeguare in qualche modo, non è che fai un switch off e da un momento all'altro riparti perché comunque devi organizzarti e questo ha portato sicuramente a un'incertezza dovuta anche al fatto che il modello che Giuliana aveva adottato nella scorsa consigliatura in parte era stato modificato, smontato in alcune situazioni, smontato possiamo usare questo termine e non ha funzionato e per cui si è ritornati al modello che Giuliana aveva messo in campo e credo che quest'anno funzionerà perché l'hanno ripreso in mano allo stesso modo e dovrebbe essere sicuramente più utile. Sul discorso delle spiagge di Castelporziano in questo momento l'avvocatura ci sta lavorando perché la situazione si sa che è molto complessa e spero che riusciranno ad aprire però io una certezza in questo momento non la posso dare. A proposito di modello, Giuliana allora intanto voi nella scorsa consigliatura quando tu sei diventata Presidente vi siete trovati davanti una situazione un po' diciamo disastrosa anche dal punto di vista della legalità rispetto anche ad atti amministrativi semplicemente ad atti amministrativi quindi è stato fatto un grande lavoro per riportare la legalità e anche per offrire poi dei servizi ai cittadini raccontaci un po' tanto quello che avete trovato e poi che cosa è stato fatto e qual è il vostro modello? allora intanto intanto buongiorno a tutti e dunque quello che abbiamo trovato è quello che era il modello chiaro è che quando noi abbiamo preso in mano il municipio questa storia abbiamo dovuto ricominciare da zero in tanti campi proprio ricostruire tutto nel caso delle spiagge e spiagge libere abbiamo dovuto ricostruire da zero ma prima di ricostruire da zero abbiamo dovuto cancellare quello che c'era prima e che non andava bene parlo specialmente dei chioschi e delle spiagge libere lo sappiamo quando noi siamo arrivati i chioschi erano ancora in piedi in uno stato ormai di degrado proprio di degrado le norme la legislazione ci impediva impediva di tenere in piedi quei chioschi era stato fatto per tanti anni ma durante il periodo della commissione straordinaria si era capito si è scoperto che quel modello non andava bene non era non poteva stare in piedi dal punto di vista proprio normativo e della legalità quindi la prima cosa che noi abbiamo dovuto fare è stato abbattere quei chioschi e ricostruire un modello da zero abbattere quei chioschi ha voluto dire anche andare a scoprire a lacci in fogna abusivi tubature che non ci potevano stare di tutto di più quindi abbiamo dovuto riportare tutto appunto allo zero alla spiaggia senza nulla ora questo significa che però c'è una grande sfida perché comunque ai cittadini noi i servizi essenziali dovevamo darli cioè se non è il chiosco se non sono i lettini ma l'acqua l'acqua potabile la possibilità di fare una doccia i servizi i servizi igienici dovevamo darli il salvamento perché comunque sono spiagge frequentate da tantissimi cittadini e quindi noi momento per momento tutto ciò l'abbiamo ricostruito anno per anno e siamo andati ad aggiungere servizi alla cittadinanza e guardate io vi dico anno per anno e sembra che noi siamo stati lì che so 15 anni noi siamo stati lì 4 anni signori con 2 di covid con 2 di covid e quindi vi dico i servizi essenziali sono quelli del salvamento che noi siamo riusciti a garantire dalla prima stagione sono quelli dei bagni abbiamo dovuto mettere bagni chimici ovviamente in tutte le spiagge libere e lo abbiamo fatto abbiamo portato l'acqua potabile con le fontanelle e con le docce quindi la possibilità per tutti quanti i cittadini di andare al mare e comunque avere questi servizi abbiamo messo la pulizia non solo la vagliatura che diciamo due volte a settimana andava a bonificare insomma tutte le spiagge eccetera abbiamo messo il servizio dei rifiuti e anche il servizio di pulizia a mano attraverso gli spiaggini che comunque arrivavano quotidianamente a pulire quel po' di quel po' insomma quei rifiuti che i cittadini spesso in maniera anche poco educata lasciavano e sì perché noi signori abbiamo una cittadinanza varia allora vedete quello che io ho sempre pensato è quella che è stata sempre la grande sfida e faccio un esempio per farvi capire lo skate park noi abbiamo costruito fatto costruire questo skate park in una zona di ostia importante che è quella appunto dell'ostia ponente e come lo abbiamo concepito noi l'abbiamo concepito come un qualcosa che potesse essere fluibile da tutti i cittadini in maniera gratuita ma che al tempo stesso potesse diventare in determinati periodi dell'anno un fonte di eventi anche internazionali e quindi anche un volano per l'economia della città e del quartiere le spiagge sono la stessa cosa devono essere fruibili da tutti i cittadini quotidianamente ma al tempo stesso devono anche essere fonte di economia ed è qui che il PUA interviene io penso veramente di averlo apprezzato e di averlo fatto mio insomma anche di averlo diciamo abbracciato in pieno durante la consigliatura perché risponde a tutte le esigenze praticamente va dalla spiaggia libera libera che è quella di cui parlava appunto Daniela alla spiaggia attrezzata ma anche allo stabilimento come siamo abituati a vederlo adesso perché non dobbiamo scordarci che ci sono persone che anche lo apprezzano lo stabilimento che magari non vogliono cambiare modello come ci sono quelle che invece vogliono cambiare modello e questa distribuzione di spiagge così variegate nelle tre tipologie si riesce ad avere col nuovo modello di Pua su tutto il litorale e credo che questa sia la cosa molto importante altra cosa a cui tengo molto e credo debba essere sottolineata che comunque il mare non può essere una risorsa soltanto nei tre mesi estivi per la cittadinanza cioè deve essere un qualcosa che tutto l'anno porta turismo porta benessere ai cittadini e quindi non può essere lasciato soltanto nel periodo da maggio a settembre ecco questo è quello che noi appunto abbiamo trovato quello che abbiamo cercato di ricostruire e con lo stesso lasciatemelo dire perché questa è una cosa a cui tengo molto e con la stessa mentalità siamo riusciti durante il periodo covid a creare un modello attraverso il quale i cittadini potessero accedere al mare in totale sicurezza un modello che ci ha diciamo che ci hanno anche copiato in altri territori e parlo di tutta l'Italia non parlo soltanto magari dei territori limitrofi che potevano essere quelli più accessibili a noi ed è stato un gran lavoro di cui vado fiera credetemi vado fiera perché è stato sempre fatto con un unico obiettivo il bene di questa cittadina chiamiamolo così del nostro quartiere del nostro territorio e di tutti noi perché questo deve essere sempre il faro che ci guida volevo aggiungere una cosa per tornare a quello che aveva detto Daniela perché poi Giuliana ha raccontato tantissime cose che abbiamo fatto ma non siamo stati perfetti come tutti sbagliamo e come tutti probabilmente abbiamo fatto anche tanti errori abbiamo fatto anche tante cose però Daniela diceva prima e questo noi ci abbiamo pensato forse avremmo dovuto parlare un po' di più con il tessuto sociale con le parti comunque con gli attori in campo su questo io non ho dubbi però questa qui credo che sia anche un'opportunità per farlo e da qui in poi cominciare a parlare con tutte le realtà sociali perché tu hai fatto una proposta che secondo me è concreta quando tu hai fatto il passaggio dicendo magari si possono mettere delle attività commerciali fuori dalla spiaggia in tutta Italia specialmente in Liguria in Sardegna cosa fanno i comuni sapendo che se tu metti un chiosco sulla spiaggia i soldi vanno al demagno per cui allo Stato per cui tu ti prendi il carico gli oneri di gestire quella roba in qualche modo ma poi i soldi vanno nelle casse dello Stato ma non ritornano indietro in Sardegna e in Liguria stanno adottando dei modelli che vanno in questa direzione dove le attività commerciali le fanno al di là della linea demagnale così c'è il solo pubblico e il comune incassa i soldi voglio dire questa è un'idea voglio dire tu l'hai detta ma noi l'abbiamo pensata in precedenza potremmo pensare anche che all'interno di questo vuo perché ancora è in una fase di valutazione può essere modificato si possa pensare lì dove c'è le attività che non vanno sulla spiaggia così la spiaggia rimane libera ma stanno ad equa della linea demagnale adesso non ho chiaro però sicuramente non sono tutti adeguati gli spazi ma secondo me in qualche spiaggia si può trovare e mettere in campo questa idea che voi da questa parte state suggerendo per cui io credo che quello che noi dobbiamo fare adesso è parlare con tutte le realtà e oggi abbiamo fortunatamente ti ringraziamo ma credo che dovremmo rivolgersi a chi gestisce alberghi a chi gestisce negozi a chi ha attività commerciali a tutte quelle persone che comunque sono portatori di interessi legittimi sani del territorio e questo fa sì che noi possiamo essere utili in qualche modo ai cittadini da una parte ma anche a chi lavora e chi produce economia perché ricordiamocelo bene che se lavorano loro lavorano anche i nostri figli lavorano le persone per cui c'è benessere anche da parte di tutti nella comunità a proposito di questo ti faccio un'ultima domanda poi chiudiamo portatori di interessi sani parliamo della direttiva Bolkesten che cos'è la direttiva Bolkesten è una direttiva che nasce per favorire la circolazione dei servizi nei paesi dell'Unione Europea e che prevede che tutte le attività legate alle spiagge siano messe a bando attraverso bandi pubblici la direttiva Bolkesten sarebbe dovuta entrare in vigore il primo gennaio di quest'anno 2024 il governo Meloni invece ha preso in qualche modo tempo e ha stabilito che le gare per le aree demaniali debbano essere fatte entro il primo dicembre del 2024 secondo molti questo provocarebbe una procedura di infrazione per l'Italia ma a prescindere ora dalla procedura di infrazione tu che cosa pensi di questo? Io penso che una norma che nasce per sviluppare concorrenza con un'origine che secondo me è giusta poi quando la cali in un paese che ha sostanzialmente mille diversità Rimini non è ostia a livello di spiagge la Sicilia non è la Sardegna allora non va bene per tutti naturalmente non va bene per tutti a mio avviso ci sono delle categorie che vengono interpretate all'interno della Bolkestein che secondo me vengono penalizzate voglio dire c'è gente che all'interno di questo contenuto ha guadagnato milioni di euro per tanti anni e c'è gente che ha un mutuo su una licenza oppure c'è una piccola attività storica e di famiglia e che di fatto voglio dire è la garanzia per il figlio per poter andare avanti e ancora magari sta pagando il mutuo sta cercando di coprire gli investimenti per cui è molto complesso questo tema voglio dire andrebbe analizzato profondamente dovremmo cercare in qualche modo poi c'è la legge c'è la legge per carità c'è una legge che è quella voglio dire ci sono delle sentenze è chiaro che poi le amministrazioni devono rispettarle poi però c'è anche l'aspetto politico lì dove si può secondo me ammortizzare si può in qualche modo attenuare questa chigliottina su alcune categorie secondo me noi dovremmo riflettere e capire come perlomeno tutelarle ecco perché c'è anche un discorso che è quello delle attività uscenti per esempio qualcuno sta parlando di remunerazione del capitale investito ovvero se tu hai fatto delle spese in questi anni ti vengono dati dei soldi ma io posso anche essere d'accordo è chiaro non sugli abusi ma se ci sono delle attività che sono state fatte delle spese all'interno che comunque hanno dato un valore a quello che è il bene demaniale al bene del comune di Roma sotto l'aspetto ambientale anche delle infrastrutture benvenga comunque in questo contesto io credo che un'analisi sulla tipologia di attività che andiamo in qualche modo a condizionare noi dovremmo farla e dovremmo riflettere non è una cosa semplice però dovremmo farla grazie grazie un attimino sì velocemente sì molto velocemente una riguarda i bagnini che ormai diventava una questione complicatissima non soltanto nel Lazio ma in tutta Italia non si trovano c'è questa norma Meloni che riduce la possibilità per i minorenni e la problematica è enorme 40 anni fa i più anziani come me si ricordano che i bagnini erano dipendenti comunali che nell'inverno venivano riadoperati su altre funzioni mi è capitato di parlare alla Fiera Internazionale del Turismo Archeologico il direttore del municipio ma perché non si ritorna a quel modello la risposta era perché l'inverno facevano un cazzo ma non è vero perché meglio che prendere la Naspi scusate allora è divertente Giuliano lo sa noi avevamo un piccolo problema che a un certo punto quando siamo andati a vedere aprire le carte di questi bagnini ultimi superstiti che erano rimasti c'eravamo accorti che uno di questi bagnini era part time d'estate e lavorava solo d'inverno però voglio dire questo per mostrarti anche per carità non significa che noi non possiamo ragionare su un modello però l'attrattività allora tanto se no non se ne esce perché non si trovano se il comune li assume poi da metà maggio a metà settembre vanno dai privati dagli stabilimenti che la stagione è un po' più lunga e comunque non se ne esce da questa situazione e l'unica secondo me possibilità è tornare a quel modello in maniera un po' più rigorosa litigando con con i altrimenti è una partita di giro d'inverno prendono la Naspi è comunque soldi pubblici che escono e i benigni non li trovi la seconda cosa finisco subito riguarda i parcheggiatori di Capocotta ora anche lì sono 40 anni che via vai arrivano i vigili tutti parcheggiano lì bisogna uscire da queste situazioni che si ibride a questo punto io sono poi per la soluzione dei problemi non ho una visione ideologica si mettono tutti intorno a tavolo stare da 30 anni lì fare una cooperativa pagare le tasse pagate il parcheggio c'è una percentuale rendiamolo a pagamento anche a cifre più basse perché tanto comunque tutti anch'io che soffrisco sempre la pioggia a Capocotta parcheggiamo posso prendere l'auto questo accampeggio è ridicolo però lo vediamo è una roba che si trascina da 30 anni è ridicola questa cosa per cui se non paghi ti bucano le gomme ma non è manco tanto vero stanno lì da una vita bisogna uscirne bisogna uscirne in una maniera più legale possibile bisogna uscirne aggiungo solo una cosa scusami Carmela riguardo a questa cosa che ha detto Daniela però ci tengo a dirla che durante la nostra consigliatura comunque i bagnini furono impiegati in inverno per lavorare insieme ai giardinieri quindi voglio dire se il municipio se il direttore del municipio ha indicazioni precise può farla questa cosa e certamente fu una bella lotta anche con i sindacati vi dico però riuscimmo a farla quindi insomma bisogna lavorare e trovare le giuste soluzioni bene grazie grazie Paolo Ferrara grazie Giuliana Di Pillo grazie Daniela Polito grazie a tutti grazie a tutti